Nella vivace atmosfera natalizia del McDonald's di Siderno, un'iniziativa di beneficenza ha catturato l'attenzione di coloro che cercano di coniugare il piacere della tavola con l'aiuto al prossimo. Ieri, numerosi partecipanti si sono seduti ai tavoli del McDonald's locale per partecipare al pranzo solidale organizzato da Sagar SRL e dall'amministratore Sergio Scidà in collaborazione con l'associazione Comma 3. Il McDonald's da sempre è impegnato in progetti sociali, a sostegno di persone in difficoltà, ha sempre collaborato con le associazioni locali come Comma 3 per dare un sollievo a chi soffre giornalmente per difficoltà fisiche e non solo. Dunque, il noto marchio di fast food ha creato un evento unico, l'idea del pranzo solidale al McDonald's. Potrebbe sembrare insolida, ma l'obiettivo è chiaro, unire le persone intorno a un pasto conviviale mentre si raccolgono fondi per sostenere le attività benefiche dell'associazione. Così il McDonald's di Siderno ha offerto ai partecipanti un pasto solidale. L'associazione Comma 3, con sede a Gioiosa Ionica, ha avuto l'opportunità di sensibilizzare la comunità locale sui propri progetti e sulle sfide che affronta quotidianamente. Ebbè, è una bella giornata perché è facile, voglio dire, per i cosiddetti normodotati andare a mangiare un panino al macchi. Per i nostri ragazzi e per i nostri figli non è molto facile, perché noi trattiamo una disabilità importante, una disabilità che non è quella che riesci, se non sei seguito, a fare determinate cose. Quindi questi, diciamo, sono momenti di gioia, di condivisione, di stare insieme agli altri. Noi per tutto l'anno, diciamo, il signor Cidà ci dà le merende per consumarle lì ai laboratori di Comma 3. Oggi insieme a lui abbiamo deciso di condividere questo momento qua, proprio per avere un attimo di integrazione e di socializzazione con, voglio dire, altre persone.